Un nome è stato iscritto sul registro degli indagati dal PM Angela Masiello per la tragedia di Enzo Accanti, il 73enne morto con l'aliante precipitato durante il decollo. È quello di Antonello Budini Gattai, unico testimone della tragedia, titolare della struttura e anche primo soccorritore. Il 73enne precipitato la scorsa domenica con il suo aliante in un campo a margine dell'avio superficie Santa Pollonia di Castiglion Fiorentino tra Castroncello e Montecchio Vesponi. Presente al momento della tragedia unicamente Antonello Budini Gattai che si trovava al posto di manovra del verricello che azionava il cavo grazie al quale avrebbe dovuto decollare il pilota con il suo velivolo, ma qualcosa è andato storto. L'aliante si è infatti sollevato solamente di una trentina di metri non riuscendo così a decollare. Il velivolo è prima precipitato e poi si è spezzato, Enzo Accanti è morto sul colpo. Ovviamente l'avviso di garanzia appare solo come un atto dovuto a tutela dell'uomo che gli consentirà di nominare un consulente di parte negli accertamenti tecnici irripetibili che si svolgeranno. Il PM ha infatti disposto sul corpo della vittima l'accertamento autoptico che si svolgerà domani. Solo dopo si potrà pensare al dissequestro della Salma e all'ultimo saluto ad Enzo Accanti.